Camilla, eccola qui, Camilla Seibezzi da Venezia, non c'è molto da dire, dirà tutto lei, è una di quelle persone che ci piacerebbe coinvolgere sempre di più e capirete immediatamente perché. Anche tu aspetti il tuo... Certo, sono come tutti gli altri, combatto le discriminazioni, fin d'ora, scherzo. Allora, non sarà facile parlare di quanto vorrei, perché il tema è vastissimo, è molto dibattuto su tutti i giornali, il tema dei diritti civili e al tempo stesso, a differenza di molti altri, non ha un denominatore comune, non ha un vocabolario condiviso. E quindi il più grande problema che abbiamo è dibattere di diritti civili, che anziché scendere in quelle che sono state le scoperte scientifiche, la ricerca accademica, in quanto è stato il pensiero della differenza, e poi oltre l'evoluzione che ha avuto, il tema dei diritti civili nel mondo, ci ritroviamo in un paese che, avendo delegato i diritti civili sempre all'ultimo posto, ha fatto sì un pochino che tutti ne parlino senza mai conoscere il tema a fondo. E questa non è una presunzione di ignoranza o di conoscenza, è una realtà. È una realtà che emerge con grandissima evidenza in questi giorni, in cui ci si avvicina al dibattito del DDL-Cirinna sulle unioni civili e in Parlamento, e si vede come un tema che è stato sempre considerato residuale, ma che è stato capace di spaccare diversi governi, si è diventato invece un'emergenza per tutti. All'improvviso, come dire, il tema del diritto è residuale solo quando non viene rivendicato e chiesto. Nel momento in cui lo si chiede e lo si cerca di affermare, diventa fastidioso praticamente per tutti. Un'altra cosa che sottolinea la discussione e il dibattito sui diritti civili è l'infinita zona d'ombra di questo Paese. E l'idea, come qui, la ragione per cui io vengo a parlare è possibile, è che si parla costantemente di combattere le diseguaglianze. Si parla di uguaglianza e non si parla di tolleranza. E questo è un pochino il punto. Io credo che noi, in termini di emozioni e anche di pensiero, si sia arrivati appena appena a considerare il tema della tolleranza, ma mai fino in fondo il tema dell'uguaglianza. Potremmo parlare da delle teorizzazioni, però veramente il tempo è strettissimo e quindi in fondo in fondo vado a cercare dei piccoli esempi di vita concreta che ho avuto modo di esperire o di cui essere anche protagonista talvolta per cercare di spiegare qual è il pensiero sottostante a quanto sto dicendo. Allora, nel 2013 sono stata nominata dal sindaco di Venezia delegata ai diritti civili. Il primo giorno di mandato ho fatto la conferenza stampa su quelle che erano le linee programmatiche del mio mandato. Tra i tanti punti decisi uno, l'adattamento della modulistica di iscrizione degli asili nido e le scuole materne del comune di Venezia in direzione antidiscriminatoria. In realtà decisi di fare una modifica di tutto il linguaggio affinché comprendesse una direzione antidiscriminatoria di quella che era lo statuto, il regolamento comunale e così via. L'amministrazione che si fa portatrice di significati nuovi, di trasformazioni sociali. Allora decido e penso la delega ai diritti civili rischia sempre di essere una dichiarazione di intenti. La città è ricoperta di manifesti sull'uguaglianza, la libertà, la fraternità, siamo tutti fratelli, siamo tutti belli e così via. Però rischia di non raggiungere mai un traguardo concreto. Sicché il primo giorno dissi io da domani mattina cambio i mobili di iscrizione dei bambini all'asilo nido e alla scuola materna. Al posto di genitore e madre metto genitore. Uno e due, che come è stato dibattuto poi sui giornali da due anni a questa parte, è il manifesto dei movimenti pro vita e degli omofobi, è un errore giornalistico dell'inizio. In realtà la sostituzione era semplicemente mettere al posto di padre e madre genitore. Genitore perché? Per cancellare la differenza tra i sessi? Sarebbe una delle più grandi dizie di questo secolo? No, semplicemente per dire che dal giorno dopo tutte le famiglie, tutte le presenze, come dire, effettive del nostro universo emotivo che popolano le nostre aule scolastiche, dal giorno dopo sarebbero state riconosciute come uguali. Parimenti dignitose. Non è neutro usare il termine genitore, era semplicemente spostare l'asse delle minoranze per includerle all'interno di una maggioranza sovraordinata. Era spostare il termine madre-padre alla categoria genitoriale, non in quanto generante, ma in quanto, come dire, sovracategoria linguistica che permetta a tutti di essere riconosciuti coppie eterosessuali, coppie adottive, coppie affidatarie, coppie lesbiche, coppie di gay, le donne sole con dei figli, i padri soli con dei figli, come dire, non sono famiglie manchevoli di un pezzo, sono realtà familiari che sono descritte da un adulto e uno o più bambini. Fine. Sono tutti uguali. Bene, questo... Perché fare una scelta di questo tipo? Perché veramente, quando parliamo delle discriminazioni, parliamo dell'inchiostro birichino, cioè parliamo dell'inchiostro invisibile, non si vede, non si tocca, è come il tema del femminicidio, è come il tema della violenza sulle donne, prima di riuscire a provarla, ci sono una quantità di elementi, è come nel caso degli abusi sui minori, cioè devi arrivare a delle situazioni tale disastrate, per cui non solo la prevenzione, ma anche il rimedio, il recupero, sono faticosissimi e vanno a giocare su delle ferite ormai profondissime. Quindi io, quello che volevo dire a un Parlamento che stentava ad approvare la legge contro l'omofobia e altre leggi, appunto, sul femminicidio e così via, parliamo del 2013, volevo dire che dai territori, dal basso, da una minoranza, dalla minoranza della minoranza, può nascere una sollecitazione capace di una trasformazione sociale, grande così, grande come la punta di un'unghia e così ho preso questa decisione, abbiamo fatto l'atto e dal giorno dopo è scoppiata una piccola rivoluzione, sono arrivate minacce di me, di morte sul web, via Lettra, sono venuti i fascisti a prendermi in comune, si è attivata la Digos, ora sembra un mondo fantasmatico, sembra andare nel giurassico, ma è andata veramente così, si è andata in Inter, ci sono fiori di filmati, hanno fatto una prima manifestazione di forza nuova regionale, una seconda manifestazione regionale, la terza manifestazione nazionale, sempre per dire quanto è importante o quanto è residuale il tema dei diritti e non stavamo facendo una legge in Parlamento, stavamo facendo una trasformazione sociale di questa entità così. Perché ho scelto il genitore? Perché volevo che le parole tornassero a avere significato volevo vedere se il fatto che lo uso io il genitore spiegando perché o se esiste nei moduli e nelle pagella del 1938, cioè sotto Mussolini, esiste dei sei anni in su già, avrebbe fatto la differenza. Beh, tutta la popolazione, ma non solo di centrodestra, anche di centrosinistra, si è sentita colpire alla pancia e allora lì la cartina torna solo e dove è la discriminazione e di quanto fa la differenza chi e cosa dice e quanto, no? Cioè, a parità di vocabolo, quindi con lo controllo scientifico delle variabili, a parità di situazione, se Benito Mussolini dal 1938 fa firmare tutti noi, lesbiche, gay, sessuali, mamma sola, papà sola, genitore, non si lamenta a nessuno. se lo faccio io, primo giorno d'incarico, notoriamente lesbica, una figlia, famiglia di arcobaleno, ma non solo per quello, come dire, con un riconoscimento sociale, di status sociale, positivo, nasce veramente un attentato, quella che viene ritenuta l'idea culturale, l'identità culturale del nostro paese. L'attentato non era all'identità culturale, l'attentato era alla sovranità culturale, all'idea che esista una maggioranza che debba decidere sempre comune, comunque di una minoranza, cioè a uno sguardo pietistico, ma non ugualitario verso l'altro. Allora, può sembrare una sciocchezza, ma dire che da domani mattina chiunque viene in contatto con quel modulo lì, deve ragionare che quello che sta a sinistra è quello che sta a destra dei suoi genitori. La segretaria della scuola, tanto quanto la presi, tanto quanto quello dall'ufficio del comune e così via, quando toccano quel modulo è stato detto che il genitore sono genitori tutti, è il cambiamento di uno schema cognitivo. Questo è un piccolo esempio, però è andato così. L'anno precedente, prima ancora di essere delegata ai diritti civili, ero consigliera comunale, presidente della commissione delle differenze, fece un emendamento al bilancio per far sì che ci fosse un corso di sei mesi per tutti gli educatori e le educatrici del comune di Venezia contro le discriminazioni. è stato scelto dal corpo insegnante in un da me, tra tanti corsi, ha avuto successo tutto quanto. L'anno dopo, appena eletta delegata, ho acquistato 50 titoli di favole contro le discriminazioni per ogni scuola del comprensorio del comune di Venezia. Le favole contro le discriminazioni perché? Perché e per tutte le discriminazioni, di nuovo per riportare le famiglie Arcobalino, ma non solo il tema del razzismo, il tema degli stereotipi di genere, il tema di tutte le discriminazioni che ancora popolano veramente le nostre classi fino al mondo adulto, ma con una tenacia e una perseveranza e una pervicacia veramente quasi invincibile. Non ho composto io la lista, come tutti dibattono sui giornali, ho dato l'incarico agli esperti delle università di psicopedagogia, alle reti contro le discriminazioni, alle psicopedagogiste del comune di Venezia, anche lì, perché, come dire, la valorizzazione delle risorse non sia teorica, ma sia frutto veramente di quel che abbiamo e mettiamo frutto. E così furono comprato questi 50 titoli per tutte le scuole e furono dorate alle biblioteche degli asili nido. Che cosa significa questo? Significa che la ricerca scientifica dice che gli stereotipi negativi si formano a partire dai tre anni di età nella mente dei bambini. Quindi, se noi iniziamo a educarli a un mondo che contempli la realtà, ma senza neanche dare un giudizio di merito, semplicemente era il racconto di una realtà speculare a quella che hanno nei banchi di scuola. Né più, né meno. Esiste, non migliore o peggiore, esiste ed è così. Anche questo, lo sapete bene perché ne discutiamo ancora oggi, è stata, come dire, una piccola rivoluzione culturale, perché siamo tutti felici finché ci sediamo al bar a dire beati in Norvegia, beati in Svezia, che sono così avanti nella lotta alle discriminazioni, però quando poi si devono realizzare nel nostro paese sembra un tema impensabile e impossibile. Allora, questo che cosa racconta? C'è un primo attacco e una prima censura di quei libri, addirittura all'interno del centro-sinistra, perché il fuoco amico è il secondo grande problema di questo paese. E poi ci fu invece la censura che è andata su tutti i giornali, sia nazionale che ancora ci va, è andata su New York Times, The Independent, The Guardian, è diventato un caso internazionale del sindaco di Venezia, noto bigotto ezotico che da un punto di vista così anche in disegno in alfabeto, però ne è fatta come dire una crociata. Allora, il virus della persecuzione dell'ideologia gender viene sì dalla Francia, viene da parte dell'America, ma viene anche dal fatto che due anni e mezzo fa, quasi tre anni fa, si sia detto per un attimo che la popolazione ferita dalle discriminazioni poteva finalmente avere uno stupidissimo modulo ininfluente e qualche libro per i bambini in cui si dice che siamo tutti uguali, effettivamente tutti uguali. Questo è bastato perché ci sia una discussione nel nostro paese per arrivare alla censura dei libri, cioè la censura di delle fiabe per bambini di tre anni. Ok? Tra le mille domande che mi sono state rivolte ce ne sono state tantissime, tantissime anche da persone a me molto vicine, gente che ha lavorato in psicofedagogia e così via, insomma, non sto parlando del popolo ignorante ezotico, sto dicendo di una paura che serpeggia dentro di noi perché evidentemente le identità sono veramente fragili e i confini della tolleranza e dell'uguaglianza sono profondamente incerti perché altrimenti i movimenti appunto di persecuzione dell'ideologia gender non sarebbero stati così pervasivi e non ci sarebbe stato nemmeno all'interno del centro-sinistra una, come dire, una reazione così profonda. Io ho sentito Fior di Padre e Fior di Madre temere che il modulo potesse cancellare in qualche modo scalfire la loro capacità o la loro riconoscibilità come genitori e questo ci dice di un mondo che è impazzito di un mondo che è stato fatto di parole ma che non ha più contenuti da una vita e mezza non da un mese due mesi da un anno il periodo di crisi da 30 anni ci dice dei diritti mai conquistati fino in fondo perché questo è il tema non c'è solo il virus dell'ideologia gender c'è la discussione di nuovo sulla legge sull'aborto c'è dall'87 al 92% di obiezione di coscienza sugli ospedali pubblici c'è nei guarda di Milano che non pratica più l'interruzione a gravidanza con la 194 e a Roma uguale che se va l'unico ginecologo che praticava l'aborto in pensione non si può più fare l'interruzione a gravidanza in una struttura pubblica riguarda i temi dell'immigrazione perché riguarda di fatto e profondamente il fatto che non si è capito che non esistono le minoranze esistono i tratti discriminanti minoritari che è profondamente diverso perché ognuno non deve guardare all'altro con benevolenza sì anche tu in ufficio o a me gli voglio un sacco di bene ma è gay per fare un esempio perché l'omofobia e la discriminazione è fatta dalla somma delle congiunzioni avversative c'è sempre qualcosa che afferma e un pezzetto che la nega ma però siccome allora queste congiunzioni avversative vanno spazzate via perché o è una malattia o non lo è nel far questo nel parlare di uguaglianza si diventa improvvisamente estremisti cioè a me quando mi parlano mi dicono che sono di estrema sinistra ma di estrema sinistra perché penso che ci debba essere una piena uguaglianza tra le persone e a me questo non mi sembra un connotato dell'estrema sinistra no mi sembra il connotato di una pratica politica che usa delle parole e cerca di praticarle ora non voglio dilungarmi annoiando tutti quanti però è proprio questo capito è sapere che tu sei la maggioranza delle persone e il tuo tratto di essere omosessuale è uno dei cento tratti che descrivono la tua persona non esiste l'immigrato in quanto tale non esiste il nero in quanto tale e anche sull'identità di genere si può aprire una grossissima discussione ma bisogna tornare a capire che cosa è successo nella scienza negli ultimi 30 anni bisogna sapere che la distinzione dei cromosomi sessuali 25 anni fa era data XXXY perché subentrava Y ma le varianti genetiche sono uno spettro di continuità biologica quindi come dire non si può far politica in mezzo alla nebbia innanzitutto bisogna spazzare via la nebbia e capirci siamo la minoranza dei malati di tumori sono la minoranza cioè come dire essere tutti maggioranza e minoranza non possiamo aspettare che sia la nostra nipota essere omosessuale che sia nostra sorella essere discriminata perché è andata per un posto di lavoro e non l'hanno presa perché magari poteva rimanere incinta e così via cioè è un carico che fa parte dell'esistenza di tutti di noi e se noi non usciamo da questo piccolo cappello secondo me non si va da nessuna parte e non si va da nessuna parte perché non basta un workshop una settimana a 18 anni per combattere la discriminazione perché ormai si è cristallizzata nella testa delle persone dei nostri giovani in modo profondissimo e scalfirla è difficile e lo dico perché è un percorso che ognuno di noi deve fare perché è cresciuto in quel contesto culturale storico non in un altro non è facile è invisibile anche al proprio stesso sguardo e quindi io credo che la strada sia questa uno potrebbe dire eri sola io ero indipendente non ero iscritta in un partito ero donna ero lesbica veramente come dire non mi mancava nessuna pecca si può essere minoranza e diventare maggioranza se noi troviamo l'anello attraverso il quale riuscire a capire quanto e come condividiamo non solo in termini teorici per questo io non ho voluto fare riferimento alla filosofia alta alla filosofia accademica ma il sentire dobbiamo tornare a sentire le cose molto più vicine a noi stessi non perché non abbiamo gli strumenti teorici ma perché li traduciamo in realtà quando a me mi hanno messo all'angolo subito mi hanno detto su tutti i giornali gli togliamo la delega ho detto prendila non importa e cosa ho fatto da quell'angolo ho chiamato la rete rete di 70 amministrazioni italiane contro le discriminazioni ho detto sei una rete comportati da rete e in quattro giorni in 70 persone hanno scritto al sindaco di Venezia chiedendo di sopportare l'iniziativa e lui non ha più potuto togliersi da là quando mi hanno accusato che tre anni era troppo presto per dare in mano ai bambini questi libri perché avrebbero fatto confusione sull'identità sessuale ho preso il telefono in mano ho aperto internet ho guardato tutti i dipartimenti di psicopedagogia delle università italiane io ho telefonato allora ho telefonato la Sapienza all'università di Ferrara di Bologna di Milano perché non si può dire quanti fondi diamo la ricerca universitaria se poi della ricerca universitaria non ce ne facciamo niente e così sono intervenute le università a supporto è venuto fuori Sei Bezzi promossa dall'università italiana ma non era Camilla Sei Bezzi in quanto tale è un principio è tornare a dare restituire a tutti gli agenti sociali del nostro paese come dire la responsabilità che gli spetta e anche il prestigio delle ricerche che hanno fatto allora a quel punto non ero più sola ecco io credo che questa minoranza anche la minoranza è impossibile possa diventare una maggioranza se riesce a far passare questo messaggio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti